Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ogni settimana ci fermiamo un attimo per condividere un souvenir digitale. Che cos'è? Un software, un'applicazione, una tecnologia, un contenuto, qualcosa che sia in grado di cambiare in meglio la nostra vita o il nostro lavoro. Attraverso l'utilizzo consapevole del digitale. E sono molto contento oggi di presentarvi un souvenir digitale che è una vera e propria sorpresa che ho personalmente preparato per tutti voi. Ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi, abbiamo parlato delle novità portate dal digital nel mondo del denaro, nel mondo degli investimenti, nel mondo dell'economia. E di mese in mese ho maturato sempre di più il desiderio di portare consapevolezza, la stessa consapevolezza che ogni giorno portiamo rispetto al mondo del web marketing, della comunicazione, del business online, anche sul fronte degli investimenti. Quindi tra poco vi presenterò il souvenir digitale del quale vado fiero, dedicato al mondo degli investimenti digitali. Prima però vi ricordo che su strategiadigitale.info ci ritroviamo con tutti voi ascoltatori per scoprire i vecchi episodi, per scaricare l'applicazione dedicata di strategia digitale, per partecipare alla vita di questo podcast facendo domande. Ma bando alle ciance è arrivato il momento di scoprire insieme il nostro souvenir digitale, per capire come il mondo degli investimenti è stato rivoluzionato al digital. Questo souvenir digitale è un podcast, un podcast che ho avuto l'onore, oltre che il piacere di creare personalmente, e si chiama Fintech24. Fintech24. Fintech24 è il nuovo podcast che ho lanciato proprio oggi e che trovate linkato nelle note di questo episodio. Un podcast totalmente dedicato al mondo fintech. Wey Gaudiano, ma cos'è che l'è il mondo fintech? Fintech è la crassi di due termini, il termine finance e il termine technology, fintech, e si riferisce a tutto quel mondo in cui il digital ha a che fare con l'economia, con la finanza, con gli investimenti, con il denaro. Dalla Satispay, l'applicazione che ci permette di pagare attraverso lo smartphone, fino al bitcoin, dalla blockchain, fino alle applicazioni, i software che ci consentono di risparmiare accantonando dei soldini dai nostri conti correnti a dalle carte di credito, in associazione a determinati trigger, situazioni, abitudini di acquisto, abitudini di risparmio che andiamo a creare. Insomma, tutto ciò che ha a che fare con i soldi e che viene modificato in meglio dal digital, questo è fintech. Nel mondo fintech c'è grande fervore, c'è un po' quell'atmosfera che c'era nell'internet dell'inizio, nel digital marketing di dieci anni fa. Fondamentalmente non ci sono regole, perché la regulation, la legge, la giurisprudenza nel mondo dell'innovazione tecnologica sul campo finanziario sta in questo momento tentando di sviluppare norme, regole che possano garantire il funzionamento secondo le leggi dello Stato di questi strumenti tecnologici. Quindi da una parte non ci sono regole, dall'altra parte c'è grandissima creatività e invenzioni tecnologiche che possono rivoluzionare completamente il nostro modo di gestire e di ricavare il denaro dalle nostre attività e in mezzo ci sono tantissime start-up, ci sono concetti innovativi come quello della blockchain che vengono mixati tra di loro per creare nuove tecnologie a supporto della nostra gestione del denaro. Una cosa voglio dire, questo lo diceva Robert Kiyosaki nel suo celebre libro Padre ricco, padre povero, ci sono due cose, anzi tre modi diversi di creare del denaro, creare della ricchezza. Il primo è il lavoro, cioè io scambio il mio tempo o i miei servizi per denaro e questo è il lavoro vero e proprio. Poi c'è il business, cioè la creazione di meccanismi che funzionano indipendentemente da me e che sono in grado di generare del valore economico, per cui io potrei per esempio creare un corso digitale, metterlo in vendita e questo corso, indipendentemente dal mio sforzo per crearlo, ho impiegato 100 euro per creare questo corso, questo può vendere 100, 200, 300, 1000, 2000 euro e quindi creare un disallineamento tra il lavoro e il guadagno. Quando il lavoro e il guadagno non sono più ancorati, posso guadagnare tanto e lavorare poco o anche all'inizio molte volte è lavorare tanto e guadagnare poco, quello è un business. E poi c'è la terza forma che è l'investimento. Bene, io credo che questo souvenir digitale, questo nuovo podcast, se è vero che il podcast è uno strumento di scoperta, di conoscenza, di consapevolezza, di formazione eccezionale, questo nuovo podcast può portare tanta consapevolezza a noi che vogliamo non solo guadagnare dei soldi dal nostro lavoro, non solo creare dei business che magari aiutati dal digitale funzionino efficacemente, ma anche imparare che cosa fare con questi soldi che abbiamo guadagnato dopo che li abbiamo guadagnati. O, ancora prima, cosa possiamo, su cosa possiamo investire e come possiamo investire per sostenere il nostro business considerando che per la crescita e l'essere a regime di un business sono necessarie a volte mesi e anni. E allora, se è vero che questo digital rivoluziona la nostra vita, rivoluzionando il nostro lavoro, sicuramente sta rivoluzionando anche il campo della finanza e dell'economia, il mondo del denaro e dei soldi, è importante, è importantissimo per tutti noi avere una formazione finanziaria e credo che oggi la conoscenza e la passione per il digital possa essere anche di stimolo per acquisire una formazione finanziaria. Ma andiamo a vedere più nello specifico il nostro souvenir digitale di oggi. Fintech24 è già online e questa era la sorpresa con 5 puntate. Sono partito subito con 5 puntate, anche per ringraziarvi della vostra pazienza in questa settimana in cui ci sono stati meno episodi su strategia digitale, 5 puntate, di cui 2 inedite e una in uscita lunedì prossimo. Il lunedì è il giorno in cui esce Fintech24 con una puntata settimanale. I titoli sono cominciati da 3 puntate storiche di strategia digitale. Il bitcoin è una bolla speculativa o una truffa. l'intervista che ho fatto a Milano per capire bene il fenomeno del bitcoin, delle criptovalute in un evento molto importante organizzato da Bigbit e in quell'occasione ho avuto la possibilità di intervistare Stefano Bassi che è il creatore del blog Il Grande Bluff. La seconda puntata Le criptovalute sono il futuro è una puntata dedicata alla riflessione dell'impatto sociale e delle condizioni economiche storiche che hanno favorito la nascita delle criptovalute e una riflessione sul loro futuro con l'intervista a Paolo Barrai il creatore dell'evento di Bigbit dove l'ho potuto intervistare e il cofondatore di Cryptolab. E poi la terza puntata come funziona l'equity crowdfunding immobiliare con l'intervista a Giuseppe Gatti che ha raccolto più di un milione di euro sul suo primo crowdfunding anche il crowdfunding è uno dei temi fondamentali del mondo fintech quindi parliamo di bitcoin di criptovalute blockchain di equity crowdfunding immobiliare ma anche di fintech e banche tradizionali con l'intervista a Fabrizio Villani che è il creatore del blog e del portale fintastico un portale di formazione studio aggregazione di tutte le società e start-up fintech bene Fabrizio ci conduce nella comprensione del rapporto che c'è tra le fintech le banche tradizionali e i giganti del mondo digital come Apple Google o Amazon l'ultima puntata pubblicata invece è su un'applicazione su Wallem l'applicazione che è un cripto game una sorta di Pokemon Go creato per catturare bitcoin e criptovalute seminati da società del mondo fintech che vogliono promuoversi quindi utilizzano la distribuzione di token di moneta digitale per attirare l'attenzione su di sé in occasione di particolari eventi quindi un modo anche per fare marketing utilizzando le criptovalute e poi usciranno sempre più puntate la prossima vi do una piccola anticipazione è l'intervista a Marco Crotta il creatore di Blockchain Cafè il quale è stato ospite già di strategia digitale ma ci parla in questo caso di un libro sul trading con le criptovalute criptovalute crowdfunding monete digitali mobile banking fintech questi sono i temi legati a fintech 24 temi che chi di voi potrà approfondire quindi chi di voi non è ascoltatore di strategia digitale non è interessato al mondo dell'economia della finanza di cosa succederà nell'economia del futuro può tranquillamente tralasciare questo souvenir digitale ma chi invece vuole aprire una riflessione su questi temi è calorosamente invitato a far parte di questo progetto sin da subito dove è il modo qual è il modo più veloce per arrivarci è fintech24.it siamo arrivati alla fine di questa puntata ragazzi lo dico sempre noi lo facciamo insieme strategia digitale spero di poter fare insieme anche questo nuovo podcast quindi aspetto i vostri commenti i vostri feedback su questo nuovo podcast e se conoscete qualcuno oltre a voi stessi interessato a questi temi fateglielo conoscere facciamolo conoscere a più persone possibili anche per fintech24 c'è un canale telegram è un canale telegram riservato non è pubblico quindi non lo trovate su telegram ma potete avere accesso andando su fintech24.it c'è il link riservato per accedere al canale telegram quindi se lo volete consigliare mandateli su fintech24.it una nuova avventura emozionante anche per me è strano dopo più di 700 episodi lanciare un nuovo podcast con la consapevolezza di chi ha fatto tanti episodi alle spalle è emozionante perché vai a creare un nuovo format a conoscere nuove persone in un certo senso è anche per me partire da zero quindi vi chiedo di augurarmi in bocca al lupo con un messaggio sul mio canale telegram diretto o un in bocca al lupo sui commenti a questo episodio un caro saluto a tutti e grazie mille da Udra Bertolone co-autrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it grazie per il sound design ciao ragazzi e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti